2 litri e mezzo di sangue ma come fosse niente nuova missione non contraddire ghost questo ti caga nel bicchiere un po' moriva questo felice di vedervi amigos bel coltellone ciao fieric ma quando torni su minecraft non lo sappiamo la salma scorrompe chiunque non noi al momento il generale shepherd laswell e chiunque non sia qui il presente va considerato ostile no il capitano pres no dobbiamo salvarlo capitano io capitano grazie saian tutto bene minecraft non è nei miei piani adesso voglio fare qualche gioco d'adulto è questo che mi piace di ghost servirà molto più di questo ah però ottimo non male serve un nuovo trasporto meglio se è corazzato vabbè c'è tutto rodolfo ragazzi ma chi cazzo è alejandro ha pensato a tutto direi di sì molto bene salviamolo la vecchia prigione in zona remota fuori la salmas era di massima sicurezza prima che arrivassero ragazzi basta chiedere di minecraft non c'è non lo porto pandora non ci sono notizia riguardo afferite la spalla ormai ragazzi sono gestiti dalla stanza della sicurezza recuperato per trovare alejandro e il resto dei tuoi ci divideremo i compiti mentre rudy trova al con le telecamere aiuterò ghost a piazzare le cariche diversivi e sabotaggio mi piace johnny ho imparato dal migliore appena troviamo alejandro e los vaqueros ci riuniamo e li tiriamo fuori porteremo delle armi in più per i miei uomini e usciremo da dove siamo entrati qualche domanda che aspettiamo molto bene sarà facile entrare aspettiamoci battuglia all'esterno sicuro c'è tutto armi munizioni e cariche negli zaini fucile rampino risalitori li ho c'è l'ho c'è l'ho c'è l'ho c'è l'ho c'è l'ho alejandro sarà vivo contaci con me a sinistra c'è un sentiero siamo belli silenziali insomma c'è un 40 mila e c'è una pistolina vent'anni ci siamo arruolati insieme era il duro del reggimento non vorrei mai avercelo contro noi dicevamo perché io non c'ho un cazzo di fucile d'assalto l'unico che può ammazzare alejandro è alejandro che significa l'unico che può ammazzare alejandro è alejandro per fortuna dei nostri ecco la prigione battuglia all'esterno dobbiamo farle fuori per entrare due cecchini prima torre sop prendiamone uno a testa shadow a terra nice faccio il giro e sgombriamo il campo rudy dacci una mano non sparare cos'è preso il ghost cos'è quell'urlo un elicottero in arrivo sembrano rifornimenti ricevuto ok ti zì davanti ma che è l'invadi taranto ma guarda lì due dietro le rocce uno sulla destra prima becca quei due al veicolo gli altri non vedranno buona idea c'ho questa merda ragazzi al mio segnale c'entra quello col berretto cazzo al berretto aspettiamo te sop veicolo lato sinistro lo shadow col berretto è tuo ma qual'era quello col berretto qual'era ma qual'era quello col berretto però c'era di essere il berretto quello vabbè niente attendiamo di quello col berretto un elicottero in arrivo va bene bisogna capire qual è ricevuto vedo sei shadow confermato tre al veicolo due dietro le rocce uno sulla destra prima becca quei due al veicolo gli altri non vedranno buona idea sop al mio segnale c'entra quello col berretto ah no questo col berretto fatto check 3 2 1 ottimo sicuro tempo ma come ottimo qualcosa mi dice che non doi andare così ragazzi posso farti una battuta ma fammi la battuta riccardo siamo qui appositamente per divertirci forse è meglio se seguo un elicottero in arrivo sembrano rifornimenti ma perché ghost va là sopra quale fine se poi deve scendere qui vabbè vedo sei shadow confermato tre al veicolo due dietro uno sul tuo fianco destro prima becca quei due al veicolo gli altri non vedranno buona idea sop al mio segnale c'entra quello col berretto ok fatto check 3 2 1 ottimo 2 a terra in movimento c'era tanto easy prendi quei due a destra del veicolo io penso a quello sull'altro lato oh 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 calma aspettiamo te sergente veicolo lato destro due shadow allo scoperto forse non devo andare così vicino io oppure si libero ok via libera vabbè giustamente siamo intera sparare qua buono è il punto d'ingresso silenzio una persona di colore trova carta in tenato di capo dopo un po' viene fermato i carabinieri chiedono a carta entità la persona gli dà quella di Leonardo di capo il carabiniero dice al marescello ma il titanico affondato si è bruciato ci siamo forza tenente sub vai tu vai sub andiamo su non spariamo lassù in silenzio non ho capito ma va bene si sub il co pan per battuta non divertente alla stanza della sicurezza insieme cerca un portello con una scala ho già il mio cecchino commesso scendo oh bro aspettami ma quanta fretta che c'è ok arrivo ci siamo muoviamoci più avanti c'è la sicurezza le telecamere sono dentro rapidi e furtivi due dentro facciamoli fuori prima che chiamino i loro amigos entriamo lì dentro vai sub ok diciamo potevo essere più preciso ma va bene così useremo le telecamere per cercare i miei e trovare Aleandro ti serviranno diversivi io piazzerò le cariche all'esterno sub dovrai guidarmi si vai alle telecamere e niente computer raga avete visto con le telecamere mettiamolo un po' vado anch'io sono fuori tienimi tocchio ok buona fortuna e tanto devo stare qua a fare il commesso quindi allora ziiiuu sop fammi sapere quando è sicuro superare il cancello libero vai cazzo è stato accedi alla telecamera di fronte e controlla la situazione uno shadow uccisione facile dagli una pugnalata ah ok mi ricorda prison simulator buonanotte testa di cazzo c'era una shadow multiple sono corazzati stai basso confermo adesso gli diamo gli ordini shadow sul balcone sono troppo lontano johnny però è puoi muoverti shadow sinistra non è male avere un aiutino è talente concentrati johnny era per dire non distrarti sergente ok passiamo quest'altra camera sali vai costa ok sali 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 arinza runza nel frattempo ok adesso direi che lo facciamo scendere hanno corazze dovrò avvicinarmi cassonetto a destra perfetto per buttare la spazzatura che cazzo uno di pattuglia all'interno dell'area con il filo spinato beccalo tic abbattuto c'è un'altra camera fai tenente direi che anche questo gli spariamo in testa tic molto bene laggiù si va lì vediamo un po' la visuale da qua com'è mmm muoversi verso il camion ottimo punto mica non urlare bro che ne dici procedi pure confermo bene bomba piazzata mi muovo via libera si va di qua aspettiamo che forse qua rischiano di vederlo guardia sulla passerella aspetta ti dico quando vediamo ragazzi ciao nikans libero muoviti via laggiù è ora di un diversivo ok c'è un'altra camera si yes pane per i tuoi denti via la luce va verso il pannello elettrico a meno che non si imbatta in me lungo la strada ok adesso sacchete preso non sono tanto male è vero tenente ho visto di meglio tipo me si o ghost però se sparo a questo secondo me rischio di vederlo però non vedo in realtà tante altre chance uno sinistra spara appena pronto oh cazzo ma lo vedono però no ok come faccio qua questa situazione è ardua no ok sali cosa ce la fa sneaky sneaky non lo vedo vai 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 oh finestre aperte al primo piano movimenti all'interno bisogna stare attenti fra te avanti aspetta là dimmi quanto è sicuro a quello lì a facciato c'è qualcuno qui libero vai scendi ok scendi facciamo scendere di nuovo vedo un pick up che puoi sabotare grazie sergente avanzare calma penso che questo lo facciamo fuori ragazzi che dite uccidilo con una coltellata ecco lì zack preso piazza bomba dove cazzo dobbiamo mandarlo due piazzate mi muovo vedere che lo fanno sempre lo stesso patting quindi sei a posto zero variabili sali direi che lo mandiamo qui anzi mazza sto coglione qua mostragli qualcosa di affilato facile da che lato lo mandiamo lì sopra direi altre videocamere minchia quante videocamere ragazzi ci stanno la casa del grande fratello qua ok si può già scendere aspettiamo ok io mi servirà un diversivo ok due si avvicinano a te ma chi puoi procedere quello sei girato ora puoi piazzare quella carica confermato veloce frate ma veloce scappa bro scappa oh 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 due in arrivo dalla strada falli passare ragazzi che culo che c'ha ghost nessun pericolo vai su muoversi che passeggio ok passiamo di qua forse era meglio rimanere un attimo qua meglio usare la lama eliminato ok al pelo ragazzi al pelo quello gli spariamo è un po' rischioso foro shadow sinistra apri il fuoco ok procedere la bomba uno scherzetto per gli shadow qui siamo pronti johnny abbiamo trovato aleandro tempismo perfetto trovato dove ok porca puttana eccolo là aleandro in isolamento due ostili le vedo aleandro in punizione l'ho trovato è da solo due shadow di guardia va bene vediamoci fuori dalle celle comunque ragazzi posso devo dire una cosa è un po' troppo stealth sto code un po' troppo stealth c'è in questo guarda l'amico aleandro farebbe lo stesso per noi penso che nike i vacheros ci aspettano cioè c'è sempre stata la parte tipo la missione ma questo non è silenziato tra l'altro ma tanto ormai penso che ci sarà bordello con questa impressione c'è sempre stata la parte silenziata e per carità però questo è troppo stealth cioè non è possibile che una missione su due sia stealth stiamo arrivando occhio all'elicottero siamo fuori dalla sua linea di tiro ma sì ma roba stealth ci sta però ci sono solo questo ma andiamoli all'inferno e andiamo dentro ho tempo da perdere io andiamo poversi permesso tanto ci sente nessuno qua dico bene io sto già bussando in realtà scusa ma tutte le bussate che ho tirato io tutte le bussate che ho tirato scusate non le sentivano le mie nemici al primo piano ok direi che ci hanno sentiti direi che ci hanno sentiti ragazzi direi che ci hanno sentiti però senza colpi senza colpi tic oh meredette e che cazzo fottuta ringhiera aiuto dietro di te sergente la missione allora di code 4 è fighissima quella missione apri piatta aspettatevi uno scopo quella è proprio super avanti come missione infatti è bellissima ma perché c'era una missione stealth fatta da dio qua la metà delle missioni sono stealth ragazzi che ne pensi di boomer niente c'hanno la loro età basta aleandro aleandro buono buono non si calmi cazzo siamo noi sup rudy ghost si ma non c'ha neanche un graffio neanche un pugno tirato a questi eh razzele ma è fighissima la missione ci sono altri vacheros di sopra tiriamoli fuori ci sono un gioco del 2007 ricordiamo prima minchia ma anche la carta igienica ti ha andato anch'io sto andando sopra vero? ci sono guardie su tutti i piani state pronti il design è pieno lanciagli tutto quello che hai è cosiddetta uccidete tutto quello che si muove oh dio aiuto ok cos'altro c'è molotov lacrimoni c'è un di tutto qui ragazzi è una bella semtex campo libero vale ci siamo vacheros si torna a casa siamo qui fratelli mi tiriamo fuori diamo le porte ma lo vacheros sono ok i controlli sono nel posto di comando dall'altra parte del corridoio cioè laggiù immagino indovinate un po' chi ci deve andare oh no ok è qua ci passo io orale mister mano sasta la muerte no lo scudo no sti cazzi prendetele state qui comandante stas vivo gli altri con me vendito sea tara 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 questa era la messa andiamo a fare un po' di tacos ragazzi andiamo a fare un po' di tacos attenzione oddio non è stata una buona idea prego aiuto aiuto facciamo che questa era la messa ok io sto qua sopra e voi andate due io sto qui va bene posso? no? qualcosa dice che devo comunque scendere gli shadow sanno di noi attenzione guardate in alto ok mi stanno facendo il culo easy no nella bomba presto altre molotov sì ma quanta roba ci abbiamo ci abbiamo un bombardamento ma sembra di essere il capodanno a napoli cioè mai mai vista così tante bombe in un code porca pittana tasto mouse 5 per cosa boss questa era la messa ce l'ho già e ti fa appoggiare l'arma prego che è easy guardate in alto vaffanculo ragazzi vaffanculo a me il tiro di questo è un attimo di panico qua ragazzi no non adesso si capisce un cazzo con sto mirino in giallo porca pittana io non posso avere un mirino normale no ma da dove ragazzi penso di continuarmi in età l'ho vista non è questo ho perso l'appetito ora lì gli shadow sanno di noi attenzione questa è la mia nuova casa guardate in alto vedo il bersaglio andiamo per ok sto sparando dietro a questo e mi vede nessuno easy tenete un po' di pattume stronzi easy ggwp capodanno a napole l'abbiamo fatta ragazzi quante munizioni sono finite io la stessa arma due volte no ok oh c'è un lanciapuffi qua dov'è no qui vabbè uno ne ha sopra la porta forza quale quale qua ok c'è un lucchetto faccio io ghost è sempre pronto avanti colonnello questo è il capitano montoya bella montoya andiamo giù ok ghost ragazzi non provarci solo ghost può farlo dovremo attraversare il piazzale per portare gli adulti c'è dell'intimo c'è del tenero tra non so se devo spararmi niente il dubbio ho sparato devo andare oddio ok a quest'arma mi piace però non c'ho quindi molto male stanno uccidendo ragazzi troppo stealth le missioni vabbè non è che sono troppo stealth le missioni ci sono troppe missioni stealth e questo si è fatto un cazzo questi stanno in mutande non si fa nulla se vengono colpiti oh stronchi ma sei ancora vivo muori falla saltare quel camion ha imbottito fa esplodere la carica ricevuto cos'altro devo fare sto tirando soltanto delle bombe cos'altro devo tirarci scusate forse non è quello cecchino a terra ci vuole tanto ok questo è quest'arma no mi piace più questa no aiuto via ragazzi detonatore quale cazzo è roma dov'è il detonatore basta con ste bombe ma c'è questi coglioni continuando a vedere lo schermo rosso sto diventando dal tonico eh ma grazie a Danny e dillo a me che mi ha spettato al suo robone attenzione fuoco alle borde alle andro è di davanti basta con questi corazzati ops raga uccidetelo tutto libero ci avete fatto passa per l'edificio lato sinistro prendiamo lo scudo ragazzi pensiamo un po' un'arma da pussi però lo scudo volo questa acqua ma non c'ho colpa ok ecco testo bastardo questi shadow sono dei pazzi mercenari johnny dilettanti del cazzo ok ci abbiamo fatto molto bene prendi qualsiasi cosa possa tornarci utile messo qualcuno la sua a fornire copertura gli altri aspettano il mio segnale primo piano oddio santo sono uscito un secondo dobbiamo scomprare il piazzale per attraversare vabbè che c'ho il lanciapuffi come lo sgombero il piazzale ma che raga quante bombe ci stanno tirando oh ma non muoiono oddio ho tirato in bocca questa ma sto sbagliando qualcosa ragazzi guardate questo me corre e noi abbiamo delle granate no ancora gli scudi che due coglione top coglione via oh gliene sto tirando a volontà di bombe però non c'è chi che tiraglia a questi vizio là vieni non è andata molto bene no non è veterano è esperto difficoltà esperto non me l'ha sentito il veterano anche perché non sono così forti dire che si si può andare si può andare si può andare intendo ok 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 avanti possiamo fare il giro attraverso un campo dobbiamo scavalcare quel muro sembra tutto libero cosa potrebbe mai andare storto sentito un elicottero oddio fotte ok il capitano è lui cazzo grande capitano un amico mamma mia il capitano price vado là ha il suo berretto da pescatore certo che ce l'ha è proprio lui ho capito il berrettone da pescatore per ora è sicuro ma gli shadow sono in arredo comici sergente mctavish felice di vederti ghost garrick price chi vi ha laswell quando shepard è sparito ha chiamato noi laswell quella donna è una roccia colonnello capitano price sergente garrick grazie ai miei serve copertura gas ghost sop coprite ora copriamo direi che copriamo ragazzo veicolo in arrivo sulla destra sop su quel veicolo c'è una carica falla esplodere veicolo distrutto tutte le cariche che ha piazzato prima saliamo vacheros è la nostra occasione oddio oh stronzo ma che cazzo ho trovato una cosa interessante qua eccolo arrivano altri veicoli da davanti mamma mia ok questo mi piace cosa c'è qua dentro mi faccia un po' vedere aha ma è ronco che roba ho un lanciagranate si ci vediamo a un prossimo video ron grotti appena sono su ce la filiamo oh hanno cecchini sui detti fatele fuori dove sono i cecchini ok facile bello lo sbrazzo grazie 18 mesi caro tic mentre caricavo oh oh guarda qua questi bastardi porite sparite ok no non è quest'arma che volevo questa salve capitano capitano mio capitano mamma mia guarda qua che chad tranquillo proprio confermo rodolfo va a recuperare il mezzo ricevuto vaccheros con me rudy vediamoci alla casa sicuro colonnello auguri capitano con me si gas guida subito go stop muoviamoci mamma mia tutto il team al completo c'è qua parti gas shepherd ci a fregare ha mandato graves e lasciato a ucciderci e rastrellato i vaccheros sappiamo perché l'aswell ha indagato un po' cosa ha scoperto la verità bella gamer boy grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti